CNA di Brindisi Le imprese possono rivolgere al Confidi venendo presso la CNA e dicono qual è il loro progetto, noi la valutiamo, vediamo la pratica e scegliamo la strada più giusta per lei. Ovviamente in più noi offriamo anche le garanzie con un massimo dell'80%, significa che se l'impresa non paga, Confidi Puglia paga l'80% del finanziamento dell'istituto bancario. Aiuto alle aziende in difficoltà quindi con la volontà di comunicare agli imprenditori come mezzi di ausilio economico vadano presi in considerazione. Oggi diventano sempre di meno le pratiche istruite dalle banche e aumentano le pratiche istruite dalla Confidi, quindi questo ci fa capire che ahimè con la crisi iniziamo a coinvivere come imprenditori e noi come CNA abbiamo cercato anche di adeguarci. Quindi un discorso di avere uno sportello Confidi all'interno della struttura è cercare di creare un rapporto diretto tra impresa e credito, cioè a differenza magari delle banche, lo sportello bancario, lo sportello Confidi è una vera e propria consulenza sul credito, cioè conoscere l'impresa e cercare di darle il credito su misura. Una risposta che la CNA intende dare per affrontare le difficoltà incontrate in termini di crisi economica. Speriamo sia una risposta così come nelle nostre ambizioni. Il CNA ha un'esperienza trentennale con la cooperativa Artigiani Garanzia e quindi finora ha avuto la possibilità di offrire presti tra 15 e 20 mila euro di liquidità per le micro imprese e gli artigiani. Già da due anni utilizzando il finanziamento della Regione Puglia definito 6.1 aveva offerto servizi diversi ad aziende che erano già più strutturate, quindi si riferiva alle piccole e medie imprese. Con questa occasione vogliamo appunto lanciare ancora più e meglio quello che è l'offerta di servizi amplissima che Confidi Puglia può e deve offrire alle aziende a questo punto, perché il momento è veramente difficile, c'è chi ha bisogno di portare avanti per esempio l'equilibrio finanziario, c'è chi ha voglia di investire e quindi una volta tanto pensiamo che veramente la crisi può essere vista come un'opportunità e siamo al servizio delle aziende come da sempre. Grazie.